quarta parte prigionieri della neve capitolo 26 il paese dei sogni il lavoro a maglia le faceva venire sonno quel giorno persino bartok le avrebbe fatto venire sonno e sul piccolo fonografo non c'era un disco di bartok c'era buck le sue mani si facero sempre più lente e nel momento in cui suo figlio scopriva la macabra inquilina della camera 217 wendy dormiva con lavoro a maglia in grembo la lana e i ferri si sollevavano al ritmo lento del suo respiro il suo sonno era profondo e non sogno anche jack torrance si era addormentato ma il suo sonno era leggero inquieto popolato di sogni che parevano troppo vividi per essere soltanto sogni erano certamente più vividi di qualsiasi sogno avesse mai fatto prima d'ora i suoi occhi avevano cominciato ad appesantirsi mentre sfogliava pacchi voluminosi di fatture e tuttavia jack dava ciascuna una rapida scorsa nel timore che per qualche trascuratezza potesse sfuggirli quel frammento di storia dell'overlook di cui aveva bisogno per operare il mistico collegamento che ne era sicuro doveva trovarsi lì da qualche parte si sentiva come chi abbia in mano un cavo elettrico e si aggiri a tentoni in una stanza buia che non conosce in cerca di una presa se fosse riuscito a trovarla sarebbe stato ricompensato con un panorama di meraviglie aveva affrontato con chiarezza la telefonata di al shockley e la sua richiesta la strana esperienza fatta nel campo giochi l'aveva aiutato nell'impresa quell'esperienza era stata qualcosa di maledettamente simile a una specie di collasso nervoso jack era convinto che la sua mente fosse in rivolta contro la richiesta di al così autoritaria e altezzosa di bloccare il progetto del suo libro forse era stato un segnale per indurlo a comprendere che il suo personale senso di autorispetto poteva essere spinto solo fino a quel punto prima di disintegrarsi del tutto avrebbe scritto il libro se avesse significato la fine della sua amicizia con al shockley ebbene fosse pure avrebbe scritto la biografia dell'albergo l'avrebbe scritta senza fronzoli e a modo introduzione avrebbe inserito il racconto della sua allucinazione dell'impressione che gli animali del giardino ornamentale avessero mutato posizione il titolo sarebbe stato forse un po piatto ma funzionale uno strano posto di villeggiatura la storia dell'overlook hotel senza fronzoli sì ma non sarebbe stata scritta con propositi vendicativi in un qualsiasi tentativo di rifarsi su al o stuart ullman o george hettyfield o suo padre miserabile tirannico briacone che era o chiunque altro comunque l'avrebbe scritta perché l'overlook l'aveva stregato era possibile trovare una spiegazione altrettanto semplice o altrettanto vera l'avrebbe scritta per la ragione che a suo modo di vedere stava la base di tutte le grandi opere letterarie di fantasia o meno la verità viene a galla e alla fine viene sempre a galla l'avrebbe scritta perché sentiva di doverlo fare 500 galloni di latte intero 100 galloni di latte scremato pagato bolla d'accompagnamento 300 pinte di succo d'arancia pagato jack si lasciò scivolare ancora più giù sulla sgabello continuando a stringere in pugno un fascio di ricevute ma i suoi occhi non erano più in grado di decifrarle si erano come velati le palpebre calavano improvvisamente appesantite la mente gli era scivolata dall'overlook a suo padre che faceva l'infermiere al community hospital di berlin un omone grande e grosso un grassone alto più di 1,85 infatti era stato più alto di jack anche quando jack aveva raggiunto la massima statura che era di 1,80 non che il vecchio fosse ancora vivo allora il mio cucciolino diceva poi accennava a tirare a jack un destro affettuosamente scherzoso e scoppiava a ridere c'erano altri due fratelli entrambi più alti del padre e becchi che col suo metro e 75 era di poco più bassa di jack ed era sempre stata più alta di lui per gran parte degli anni dell'infanzia il rapporto di jack con suo padre era stato qualcosa di simile allo sbocciare di un fiore di potenziale bellezza che però una volta sbocciato si era rivelato affetto da una malattia misteriosa e occulta fino ai sette anni aveva amato senza remore quell'omone alto e panciuto nonostante le sculacciate i lividi e i saltuari occhi neri jack ricordava le vellutate sere estive la casa silenziosa il fratello maggiore brett fuori con la ragazza il fratello di mezzo mike immerso nello studio di qualcosa becchi e la madre in soggiorno a guardare un qualsiasi programma televisivo davanti al vecchio apparecchio scalcagnato e lui jack seduto in un corridoio con indosso un pigiamino nient'altro che fingeva di giocare con i suoi camion ma in realtà aspettava il momento in cui il silenzio sarebbe stato rotto dalla porta che si spalancava con fragore dall'urlo di benvenuto di suo padre quando si fosse accorto che jacky lo stava aspettando dal suo gridolino felice di risposta mentre l'omone percorreva il corridoio il cranio roseo baluginante sotto i capelli a spazzola nel riflesso della luce del vestibolo in quella luce somigliava sempre a una specie di molle e svolazzante fantasma un po' fuori misura con indosso l'uniforme bianca dell'ospedale la camicia che deportava dalla cintola spesso macchiata di sangue il risvolto dei calzoni che si afflosciava sulle scarpe nere suo padre lo sollevava di peso tra le braccia e jacky si sentiva lanciato in aria come in un delirio e c'erano state sere che suo padre per l'ubriachezza non aveva arrestato in tempo il lancio e jacky era schizzato in alto sopra la testa piatta del padre per ruzzolare poi sul pavimento dell'atrio alle spalle del genitore ma altre sere suo padre si limitava a sollevarlo da terra in un'estasi di gridolini attraverso la zona d'aria dove reggiava il sentore di birra come una nebbia di goccioline di pioggia per essere rigirato e rivoltato e sballottolato al pari di un pupazzo ridente e infine essere posato a terra scosso dal singhiozzo provocato dalla sua reazione le ricevute li scivolarono dalla mano afflosciata e fluttuarono nell'aria atterrando pigramente sul pavimento le palpebre di jack che erano chiuse con la figura del padre tatuata sulla parete interna a mo di un'immagine stereotica si succhiusero appena e poi tornarono ad abbassarsi fu come percorso da un brivido la coscienza al pari delle ricevute fluttuò pigramente verso il basso simile alle foglie autunnali di abete rosso c'era stata la prima fase dei suoi rapporti col padre e a mano a mano che tale fase si avvicinava alla fine a poco a poco jack si era reso conto che becchi e i suoi fratelli tutti più grandi di lui odiavano il padre e che la madre una donna scialba a cui accadeva raramente di parlare facendo udire più di un mormorio si limitava a sopportarlo perché l'educazione cattolica le imponeva di farlo a quell'epoca non era apparso strano a jack che il padre l'avesse sempre vinta in ogni discussione coi figli facendo ricorso ai pugni e non gli era sembrato strano che il suo amore dovesse procedere di pari passo con la paura paura del gioco dell'ascensore che avrebbe potuto concludersi una di quelle sere in una caduta rovinosa paura che il grossolano buon umore di suo padre nel suo giorno di libertà potesse tramutarsi di colpo in quel suo grugnito porcino e nello schiaffo della sua destra e a volte ricordava jack aveva avuto una paura ancora più assurda che l'ombra di suo padre potesse cadere su di lui mentre giocava era stato verso la fine di questa fase che aveva cominciato a notare come brett non portasse mai in casa le sue amichette o mai che becchi i loro compagni l'amore aveva cominciato in acidirsi a nove anni quando suo padre a forza di bastonate aveva spedito sua madre all'ospedale aveva cominciato a usare il bastone un anno prima quando un incidente stradale aveva storpiato da quel momento non lo aveva più abbandonato un bastone lungo nero grosso dal pomo dorato ora mentre sonnecchiava il corpo di jack sussultava e si raggomitolava al ricordo del rumore che il bastone faceva nell'aria una sorta di sibilo omicida e poi l'urto violento contro il muro o sulla carne aveva percosso la loro madre senza una ragione plausibile così di botto del tutto inopinatamente sedevano a tavola per la cena il bastone era appoggiato alla sedia era una domenica sera al termine di un fine settimana di tre giorni per papà un fine settimana che aveva trascorso sbevazzando con quel suo stile consueto ma inimitabile pollo arrosto piselli purea di patate papà seduto a capotavola il piatto stracolmo che sonnecchiava o quasi sua madre che passava i piatti e tutta un tratto papà si era svegliato gli occhi infossati nelle orbite grasse scintillanti di una sorta di sciocca maligna petulanza li aveva spostati saitando da un membro della famiglia all'altro e la vena al centro della fronte si delineava prominente un sintomo sempre preoccupante aveva calato una delle grosse mani costellate di eferidi sul pomo dorato del bastone carezzandolo aveva detto qualcosa a proposito del caffè o almeno fino a quel giorno jack era certo che la parola pronunciata da suo padre fosse stata caffè la mamma aveva aperto la bocca per rispondere e subito il bastone era sibilato nell'aria abbattendosi sul suo viso dal naso l'era zampillato un fiotto di sangue becchi aveva urlato gli occhiali della mamma erano caduti nel sugo dell'arrosto il bastone si era sollevato e poi era tornato ad abbattersi questa volta in cima al capo lacerando la cute la mamma era caduta a terra e lui si era alzato dalla sedia e si era portato nel punto in cui la donna giaceva inebetita sul tappeto brandendo il bastone muovendosi con la grottesca rapidità e agilità dei grassi gli occhietti che lanciavano lampi la papagorgia tremolante mentre le parlava con lo stesso tono con cui si era sempre rivolto ai figli durante simili sfoghi di collera ora ora per dio penso proprio che adesso prenderai la purga maledetto cucciolo caro niente avanti prendi la purga il bastone si era sollevato ed era calato su di lei altre sette volte prima che brett e mike riuscissero a bloccarlo a trascinarlo via a strappargli il bastone di mano jack il piccolo jack adesso era jack jack che sonnecchiava e borbottava su una seggiolina da campo coperta di ragnatele mentre le sue spalle la caldaia del calorifero emetteva arruggiti cavernosi sapeva con esattezza quante erano state le bastonate perché ogni tonfo sordo contro il corpo della madre gli si era impresso nella memoria come l'irrazionabile colpo di uno scalpello nella pietra sette tonfi non uno di più non uno di meno lui e becchi che piangevano increduli guardando gli occhiali della madre che giacevano nella purea di patate una lente incrinata e sporca di sugo d'arrosto brett che urlava contro papà dal corridoio sul retro dicendoli che l'avrebbe ammazzato se solo avesse osato muoversi e papà che non si mancava di ripetere maledetto cucciolo ridammi il bastone carognetta maledetto cucciolo dammelo e brett che lo brandiva con un gesto esterico dicendo di sì sì che te lo do prova solo a muoverti e ti do tutto quello che vuoi e anche qualcos'altro te ne darò un sacco la mamma che si rialzava fatica inebetita il volto gonfio tumefatto sanguinante e aveva detto una cosa terribile forse l'unica cosa che la mamma avesse mai detto è che jackie riuscisse a ricordare parola per parola chi ha preso il giornale il vostro papà vuole guardare i fumetti sta ancora piovendo e poi era crollata di nuovo in ginocchio i capelli che le ricadevano sul volto deturpato dalle percosse mike che chiamava il dottore farfugliando al telefono poteva venire immediatamente si trattava della loro madre no non poteva dirgli cosa era successo non al telefono soprattutto non poteva dato che era un duplex che venisse e basta il dottore era venuto e aveva portato la mamma all'ospedale dove papà aveva lavorato per tutta la sua vita da adulto papà al quale era passata la sbronza o forse solo con la sciocca astuzia di un animale braccato aveva dichiarato al dottore che la mamma era caduta dalle scale la tovaglia era macchiata di sangue perché lui aveva tentato di ripulirle il caro viso e come mai i suoi occhiali avevano attraversato a volo il soggiorno e la sala da pranzo per atterrare sulla purea di patate e nel sugo d'arrosto aveva chiesto il dottore con una sorta di orrido soghignante sarcasmo e così che è andata mark ho sentito parlare di gente che nasconde un intero apparecchio ricetrasmittente in una capsula dentaria e ho visto un tale al quale avevano sparato in mezzo agli occhi e che è vissuto abbastanza per riferirlo ma questa è una faccenda che mi giunge del tutto nuova ma papà si era limitato a scuotere il capo e a dire che non ne sapeva proprio nulla dovevano esserle caduti dal naso quando l'aveva portata a braccia attraverso la sala da pranzo i quattro figli erano rimasti bloccati da un silenzio attonito sopraffatti dall'imperturbabile prodigio di quella menzogna quattro giorni più tardi brett si era licenziato dallo stabilimento e si era ruolato nell'esercito jack aveva sempre pensato che non fosse stato a causa delle repentine irrazionali percosse che suo padre aveva infetto durante la cena ma per il fatto che all'ospedale la madre aveva confermato l'avversione del padre mentre stringeva la mano del parroco nauseato brett li aveva abbandonati a tutto ciò che avrebbe potuto succedere era rimasto ucciso nella provincia di dong ho nel 1965 lo stesso anno in cui jack torrance studente aveva diritto alla contestazione universitaria volta a mettere fini alla guerra nel vietnam aveva agitato la camicia insanguinata del fratello alle manifestazioni che vedevano un afflusso sempre più imponente di giovani ma mentre parlava non era il volto di brett che aveva dinanzi agli occhi era il volto di sua madre quel volto inebetito di una persona che non connette sua madre che diceva chi ha preso il giornale mike era fuggito tre anni più tardi quando jack ne aveva 12 era andato all'università del new hampshire grazie a una sostanziosa borsa di studio un anno dopo il padre era morto in seguita un improvviso attacco cardiaco che l'aveva colpito mentre preparava un paziente in vista di un intervento chirurgico era crollato con indosso la sua bianca uniforme da infermiere floscia e disordinata probabilmente era morto ancora prima di toccare le piastrelle rosse e nere del pavimento dell'ospedale e tre giorni più tardi l'uomo che aveva dominato la vita di jackie l'irrazionale dio fantasma bianco era sottoterra sulla pietra tombale si leggeva mark anthony torrens padre affettuoso jack avrebbe aggiunto una riga sapeva giocare l'ascensore avevano incassato un sacco di soldi di assicurazione vi sono persone che sottoscrivono polizze con lo stesso entusiasmo con cui altri fanno raccolta di monete o di francobolli e mark torrens apparteneva a quella categoria i soldi dell'assicurazione erano arrivati nello stesso momento in cui erano cessati i pagamenti dei premi mensili e delle fatture di alcolici per cinque anni erano stati ricchi quasi ricchi nel sonno leggero inquieto il suo volto gli si parò dinanzi come in uno specchio era e non era il suo volto gli occhi stupefatti e la bocca della piega innocente di un bambino seduto nel corridoio con i suoi camion in attesa del papà in attesa del bianco dio fantasma in attesa che l'ascensore salisse con inebriante esilarante velocità tra le esalazioni di osteria che sapevano di salino di segatura nella probabile attesa che l'ascensore si fracassasse a terra facendoli uscire dalle orecchie vecchie molle d'orologio mentre il suo papà emetteva risate scroscianti e si tramutò nel volto di danny così somigliante a quello che era stato il suo i suoi occhi erano stati di un azzurro sbiadito mentre quelli di danny erano grigio fumo ma le labbra mostravano la stessa piega e la carnagione era chiara danny nel suo studio con indosso le mutandine di plastica e tutte le sue carte fradice e il vago appena avvertibile sentore di birra che ne esalava uno spaventoso intruglio in fermentazione che si sollevava sulle ali del malto l'alito delle osterie lo schiocco dell'osso la sua voce che mi agolava con tono da ubriaco danny stai bene dottore oddio oddio il tuo povero braccino e quel volto si trasformava nel volto inebetito della mamma gonfio e sanguinante che si alzava emergendo da sotto il tavolo e la mamma diceva da tuo padre ripeto un annuncio oltremodo importante da parte di tuo padre prego resta sintonizzato sintonizzati immediatamente sulla frequenza dell'allegro già ripeto sintonizzati immediatamente sulla frequenza dell'ora allegra ripeto una lenta dissolvenza voci disincarnate che riecheggiavano fino a lui come attraverso un interminabile corridoio avvolto nella bruma cose che continuano a intralciarmi caro tommy madoc ci sei ho fatto di nuovo la sonnambula mio caro sono i mostri disumani che temo mi scusi signor ulman ma questo non è l'ufficio con i suoi schedari la grande scrivania di ulman un registro delle prenotazioni vergine per l'anno prossimo già sistemato al suo posto non perde un colpo quell'ulman tutte le chiavi appese in bell'ordine loro ganci furché una quale quale chiave la chiave universale la chiave universale la chiave universale chi ha preso la chiave universale se andassimo di sopra forse vedremmo e la grossa radio trice trasmittente sullo scaffale l'accese comunicazioni di radiomatori che si sovrapponevano in brevi squarci inframmezzati da scariche cambiò frequenza e fece scorrere l'asticella attraverso scrosci di musica squarci di notizie la voce di un prete che arringava una congregazione da cui si levava un sordo lamento confuso un bollettino meteorologico e poi un'altra voce sulla quale tornò a sintonizzarsi era la voce di suo padre ucciderlo devi ucciderlo jack e anche lei perché un vero artista deve soffrire perché ognuno uccide la cosa che ama perché complotteranno sempre contro di te tentando di trattenerti e trascinarti in basso proprio in questo momento quel tuo ragazzino si trova in un posto dove non dovrebbe essere ha trasgredito ecco quello che sta facendo è un maledetto cucciolo bastonalo per questo jacky bastonalo fino a tramortirlo bevi un goccetto jacky che poi giochiamo all'ascensore e allora verrò con te mentre mi darai la purga so che sei capace di farlo ma certo che ne sei capace devi ucciderlo devi assolutamente ucciderlo jacky e anche lei perché un vero artista deve soffrire perché ognuno la voce di suo padre che saliva saliva trasformandosi in qualcosa di esasperante non più umana qualcosa di squiettante petulante esasperante la voce del dio fantasma del dio porco che gli arrivava direttamente dalla radio e no urlò di rimando tu sei morto sei nella tomba non sei per niente dentro di me perché lui aveva escluso il padre da sé lo aveva escluso del tutto e non era giusto che tornasse strisciando attraverso quest'albergo a 3000 chilometri di distanza della cittadina del new england dove era vissuto e morto sollevò la radio e la scaraventò a terra dove si fracassò proiettando intorno vecchie molle da orologio e valvole come in conseguenza di un qualche pazzo gioco dell'ascensore finito malamente facendo svanire la voce di suo padre lasciando solo la sua voce la voce di jack la voce di jacky che cantilenava nella fredda realtà dell'ufficio morto sei morto sei morto e l'improvviso rumore dei passi di wendy che risuonavano sul soffitto sopra di lui e la voce sorpresa spaventata di wendy jack jack induggiò immobile contemplando la radio fracassata ora a collegarli col mondo esterno restava soltanto il gatto delle nevi nel capanno degli attrezzi si portò le mani agli occhi comprimendosere contro le tempie